Siamo con Domenico De Angelis, con direttore del Banco Popolare. Ecco, è stato quasi lungimirante, ci siamo visti settimana scorsa, c'è stato questo evento sul settore giovanile, si ritorna a parlare con grandissimi come Paolillo Collovati, lo stesso Righi, autore di un e-book molto importante e si parla di una via di uscita per rigonfiare questi palloni qualora non fossero bucati, è quella proprio del settore giovanile, di puntare sui giovani. Ma noi qui credo che la struttura che ci ospita stasera, come ci ospitava l'altra sera, credo che sia una manifestazione evidente e chiara di quanto questa società e la famiglia De Salva hanno puntato sulla crescita dal basso della società e devo dire che io ho toccato con mano la qualità di questa realtà perché i miei ragazzi, ne ho quattro, due o tre, sono venuti a partecipare agli stage estivi di calcio e insomma io credo che qui ci sia veramente una qualità di investimento sui giovani importante, ma soprattutto poi nella discussione si è parlato spesso dell'importanza di avere noi fuori classe io credo che i fuori classe abbiano portato sicuramente interesse economico per lo sport italiano, ma abbiano anche portato tanta oppressione e difficoltà di evidenziarsi a giovani bravi, ho citato prima anche perché è un po' per tutti i ragazzi di Novara un emblema questo giovane Faragò praticamente che è un ragazzo che studia a Novara che tutti conoscono perché voglio dire è un ragazzo che è giovanissimo e che voglio dire nell'ultima partita abbiamo fatto col Brescia ha molto ben figurato. Io credo che è importante investire sui giovani perché portano qualità, positività ed entusiasmo, ma soprattutto perché poi sono quelli che speriamo un giorno torneranno a far grande il calcio italiano Ecco, il calcio si è parlato, è emozione come l'ha definito Ernesto Paolillo quanta emozione c'è stata in lei nel vedere proprio andare quasi in gol Faragò perché poi il gol decisivo è nato da una sua giocata Ma diciamo che io lo so bene che avevo davanti a me i miei quattro figli che erano presenti come sempre allo stadio la domenica quando eravamo in A e sabato quando eravamo in B e ancora quando eravamo in C1 perché abbiamo visto anche parecchie trasferte Devo dire che credo che sia stata una grande emozione per me come sponsor e come tifoso del Novara chiaramente ma soprattutto per tutti quei ragazzi voglio dire che hanno visto in lui un giovane novarese volenteroso che è partito dal Vivaio ed è arrivato a figurare bene ma soprattutto credo che sia un sogno per tutti un sogno normale, perché la verità è che credo che i sogni eccessivi come quelli di arrivare agli stipendi di Ibrahim ci hanno un po' rovinato non perché ce l'abbia colui che è sicuramente un giocatore straordinario un po' rovinato e viziato questo mondo sociale che è il mondo del calcio la mia speranza voglio dire che un giorno nell'interno della nostra formazione che magari costerà di meno ma giocherà molto bene lo stesso ma giocherà negli ultimi anni ci sono tanti di quei 200-250 ragazzini che c'erano qui la scorsa settimana con l'orgoglio dei genitori voglio dire a rappresentare la società io credo che se questo avverrà probabilmente tanti problemi di palloni bucati non ne avremo, altrimenti il rischio vero è che se l'interesse economico prevale sull'interesse sociale e sportivo il rischio vero è che tante volte la necessità e i troppi soldi comportano dei problemi anche alla qualità di quello che si realizza ecco abbiamo aperto parlando di lungimiranza chiudiamo con lo stesso argomento perché è il Novara Calcio la banca popolare di Novara è legato al Novara Calcio da molto tempo magari tempi meno felici se possiamo definirli così ma io credo io mi auguro che i tempi a venire siano ancora più felici sarà difficile degli ultimi 2-3 anni voglio dire ma quello che conta è che comunque il Novara Calcio la banca, la De Agostini, la Comole Ferrari la Igor, la Mirato e tutti queglienne 20, 30, 40 sponsor del territorio che sono stati vicini alla squadra in questi anni lo rimarranno io credo che quello che il progetto ci ha insegnato è che bisogna rimanere compatti ma noi lo siamo stati per il calcio credo che il progetto abbiamo creato attorno alla palla a volo che anche ieri un po' più a fatica in trasferta ma ha vinto dandoci la seconda vittoria consecutiva con questo bellissimo gemmollaggio calcio e palla a volo a Novara con sponsor comuni credo che ne sia una dimostrazione io credo che in un territorio come questo che sta soffrendo come tutta l'economia capitalista contemporanea mondiale in modo drammatico in questi ultimi anni il Novara Calcio e lo sport sono stati un elemento di euforia di positività e di entusiasmo teniamoceli stretti e speriamo che questa famiglia che tanto ha dato al territorio ci continui ad essere vicina a questi territori perché credo che loro siano stati uno degli elementi di svolta per questa società e la dimostrazione è stasera vedere questo centro sportivo straordinario